Salve a tutti. Con questo video vorrei iniziare una serie sulla filosofia in senso stretto, a partire dalle basi. In questo video, vorrei spiegare cosa significa filosofia. Come molti di voi già sanno filosofia viene dal greco philos che come significato generale ha amore e soffie che vuol dire sapere. Ma di preciso cosa significano questi due termini? Va tenuta in considerazione una cosa. Ci sono tre verbi per dire amare in greco, c'è un motivo almeno per cui si usa filoschederia da fileo? Che nel dizionario montanare tra le tante accezioni di significato ha ricercare, infatti lo stesso dizionario alla voce filosofia riporta anche ricercare il sapere. Pitagora, secondo autore come Cicerone, è tradizionalmente indicato come colui che avrebbe inventato il termine filosofia. Poiché lui non sarebbe un sapiente, solo gli dèi sono sapienti, lui ama la sapienza, e quindi la cerca, ma non la possiede tutta. Cioè essa è irraggiungibile dall'uomo. Questa tradizione è messa in dubbio da alcuni fatti. Questa è una concezione della filosofia di matrice platonica, che poi affronteremo in seguito. Di fatto Pitagora era troppo fiero per usare un'espressione modesta, tanto che la sua è stata una specie di setta iniziatica. Inoltre il prima ad avere usato la parola filosofia per iscritto è stato eraclito, precedente a Pitagora. Ma soffie significa anche sapienza. Quale sarebbe la differenza tra sapere e sapienza? Il sapere sarebbe il complesso delle conoscenze umane. Sapienza nell'accezione antica del significato indica un insieme di certezze e di verità accettate, spesso considerate assolute. Nella sapienza il sapere viene dall'alto, da una rivelazione o da un'illuminazione. L'uomo lo deve solo conoscere e accettare, anche se ciò può richiedere un percorso. Le forme di sapere precedenti alla filosofia, sia in Grecia, come l'orfismo, e sia quelle orientali, come il buddismo, per questa ragione non possono essere considerare filosofie. Spesso infatti mi domandano perché le cosiddette filosofie orientali vengano trascurate o studiate separatamente? Perché cioè la storia della filosofia nei libri parte da Talete, nell'antica Grecia, e non con le filosofie orientali. Non si tratta di razzismo verso chi non è occidentale e anche con i greci stessi bisogna cercare di stabilire quando nasce la filosofia.